Buongiorno e bentrovati in redazione. In questo appuntamento parleremo di cambiamenti climatici e di come questi stiano incidendo negativamente su fame e migrazione. A tra poco! Il riscaldamento globale causato dall'uomo farà aumentare la siccità e le piogge estreme in tutto il mondo, pregiudicando la produzione agricola e la sicurezza delle forniture alimentari. A pagarne le conseguenze in maggior modo sarà soprattutto l'Asia e l'Africa con guerre e migrazioni, ma anche il Mediterraneo è ad alto rischio di desertificazione e incendi. Lo prevede il rapporto cambiamento climatico e territorio del Comitato Scientifico dell'ONU diffuso stamani. Per saperne di più vi invito a visitare il sito www.lanoteonline.it Vi ricordo la nostra mail redazione.lanote.gmail.com Per il momento è tutto, vi auguro un buon proseguimento e mi raccomando iscrivetevi al canale YouTube. Grazie!